ecco mi vai la maglietta quella che ti avevo e tu dove vai che sei così sistemata e con il permesso di chi? esco con i miei amici ahah ma dove vai e con il permesso di chi? infatti finivo di sistemarmi e poi venivo da te a chiederti il permesso eh sono qui vai chieda il permesso mamma posso andare con i miei amici a prendere un gelato? e tu vai a prendere un gelato vestita così? no non hai il permesso ma perché non hai il permesso di uscire con i miei amici perché? perché io non voglio io non voglio mamma per favore ti prego loro stanno qua sotto mi stanno aspettando stanno aspettando solo me amigail non mi interessa andate nevi andate nevi amigail non hai il permesso di uscire il fratello che stai piangendo aprofita di sistemare la cameretta nobile 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 nobile